Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Oggi come ogni fine del mese sono qui con i preferiti del mese Questi saranno i preferiti di febbraio Che finalmente è giunto al termine Io non so perché ragazzi ma diversamente dagli altri anni Quest'anno febbraio mi è sembrato durare un'eternità Cioè mi sembrava non finire più Infatti sono contenta che sia finalmente finito E oggi appunto vi faccio vedere con un po' di ritardo Tutte le cosine che più ho amato in questo mese Come sempre vi ricordo che tutti i link dei prodotti che vi faccio vedere Li trovate sotto nelle infobox e io direi di non perdici in chiacchiere di iniziare Partiamo come sempre dalla prima categoria che sono i film barra le serie tv del mese E questo mese ragazzi vi divido la categoria in due Ovvero parte rewatch e parte film nuovi O meglio film nuovo perché ne ho visto solo uno Con la parte rewatch intendo che durante febbraio ho rivisto Non so perché ma mi è proprio venuta voglia Di rivedere alcuni dei film di Ficarri Picone Che sono penso la mia coppia comica preferita in assoluto Anche perché io ci sono cresciuta letteralmente Infatti so tutti i loro film a memoria E appunto questo mese ho fatto un rewatch di alcuni Ho riguardato L'Ora Legale, Il Primo Natale e Andiamo a Quel Paese E con Coco ho anche rivisto la serie Incastrati Che è uscita circa un annetto fa su Netflix Se non l'avete vista guardatela perché ragazzi è veramente bellissima Penso una delle mie preferite Io dico sempre che è la giusta combo tra un thriller e una serie tv comica Mentre dall'altra parte abbiamo solo un film che ho visto al cinema con Coco Tra l'altro se non sbaglio è uscito proprio a febbraio E si chiama Past Lives Io so che un sacco di voi l'avranno visto Comunque li avranno sentito parlare Opinioni Allora carino Nel senso che sicuramente è un bel film Con un bel significato Che è quello del famosissimo filo rosso Che collega le persone Quindi di rapporti predestinati Diciamo tutta questa sfera molto bella, molto affascinante Se però dovessi esprimere un parere dal punto di vista personale Vi dico che non è esattamente il mio film Non mi ha annoiata Però sicuramente è un film che non esplode mai Non c'è mai l'apice diciamo Non c'è mai la parte clou È molto tranquilla, molto chill Scorre abbastanza lento Anche per come è registrato è un film che rimane piatto Ma non per forza nel termine più negativo della parola Però sì è appunto è un film che rimane così E quindi vi dico molto bello Secondo me oggettivamente dal punto di vista soggettivo Non è proprio il mio film Però comunque l'ho apprezzato Mi è piaciuto l'idea di massima Prossima categoria Accessorio preferito del mese Qui ragazzi non so se effettivamente posso intirirlo come accessorio Ma lo faccio E vi faccio vedere un paio di scarpe Che in realtà ho comprato a gennaio Era circa metà gennaio quando le ho comprate E le ho acquistate perché dovevo partire per Tenerife E avevo assolutamente necessità di un paio di scarpe da ginnastica Nuovo possibilmente E quindi alla fine dopo essere andata da Snipes E aver provato un po' di scarpe Quelle che mi avevano convinto di più Erano state loro Ovvero le New Balance 530 Io ho sempre visto un sacco Le volevo sempre acquistare Però non so Le vedevo troppo sportive per i miei gusti In realtà ragazzi io le sto amando Letteralmente A parte essere comodissime Che vabbè quello era scontato Mi piace proprio come stanno con gli outfit E rendono il look tra il casual e lo sportivo Ma con il giusto equilibrio Magari viste così non rendono Me ne rendo conto Infatti io per tanto tempo sono stata indecisa Fin quando le ho provate Cioè quando le ho provate Con un bel denim chiaro e tutto Mi sono completamente innamorata Infatti vabbè a Tenerife Le ho messe un sacco Ma anche perché erano praticamente le uniche scarpe A parte gli stivali che avevo Quindi per forza le ho messe Ma in realtà anche in questo periodo Un sacco di volte sto indossando loro Quando proprio voglio dei look super semplici E quindi sono stata super super contenta Di averle comprate Passiamo al mondo beauty E andiamo sul prodotto makeup del mese Io ragazzi non ci ho pensato nemmeno Un secondo Sul prodotto makeup che più ho utilizzato questo mese E assolutamente è stato lui Ovvero questo stick per il contour Barra per il bronzing di Rare Beauty L'ho comprato molto a caso Tra virgolette nel senso che Cercavo uno stick Più che altro per fare contour al naso Quindi che non fosse eccessivamente caldo Ma che non fosse nemmeno eccessivamente freddo Anche perché io ho la pelle molto calda Quindi se vado a mettere una cosa molto fredda Risulto grigia E la commessa da Sephora Mi ha consigliato lui Io ragazzi innamorata Cioè vi giuro Lo sto utilizzando Non solo per fare contour al naso Ma per tutto il viso Lo sto amando Penso di aver fatto veramente Una narrazione chilometrica A Charlotte l'altro giorno Su questo bronzer Perché ne sono Innamorata Innamorata Persa Io ho preso la colorazione più scura Che si chiama Good Energy E penso che sia anche la colorazione Forse più adatta Per avere un contour Ne troppo freddo Ne troppo caldo Ma colorazione a parte È stratificabile Si sfuma in due secondi Non fa macchia Si fonde con la pelle È perfetto Letteralmente perfetto Quindi io ve lo stramega consiglio Costa un pochettino Ma vi giuro ragazzi Vi giuro Ne vale la pena Quindi lui assolutamente Altri prodotti di makeup Che vi faccio vedere Sono loro Che sono stati La mia lip combo Per tutto il mese di febbraio E penso che saranno anche La mia lip combo Per il mese di marzo E sto parlando di questi Due prodottini di NYX Quindi siamo In una fascia Abbastanza low cost Anche per questo Ve li sto facendo vedere E la lip combo È composta Dalla matita Che è Penso la mia preferita In assoluto Che è La cappuccino Delle lip pencil Della linea più classica Di NYX E da lui Che è il nuovo gloss Duck plump Metto le mani avanti Vi dico che Se non vi piacciono I prodotti che pizzicano Vanno ad ingrossare le labbra A rimporparle Non compratelo Perché Sono soldi buttati Se no Se invece vi piace Questa tipologia di prodotto Lui assolutamente Fa il suo lavoro E anche la lip combo Che sto indossando adesso E come vedete Secondo me Viene fuori Un nude Perfetto E quindi Assolutamente Questa è stata La lip combo Di febbraio Passiamo al prodotto Skincare Di questo mese E lui È il prodotto Che vi mostro Ovvero questo cleanser Di Bioma Mi è stato regalato A Natale Quindi mi sono presa Due mesi abbondanti Per provarlo E testarlo E finalmente Ve ne posso parlare Penso ragazzi Che sia uno Dei migliori detergenti Della fascia low cost Che io abbia mai provato In tutta la mia vita Mi piace tantissimo Io lo utilizzo Sia la mattina Per andare a sciacquare il viso Per rinfrescarmi Tutto Sia la sera Come doppia detersione Quindi cosa vado a fare Vado a strucarmi Solitamente con un olio Un burro E poi sopra ci passo lui Per andare a togliere Tutti i residui Lo sto sostituendo In questo periodo Alle schiume Per fare la doppia detersione Semplicemente Perché questo qui Rimane meno secco Nel senso che Mi va a seccare Meno la pelle Anche perché Non ve l'ho detto Ma è un cleanser In gel Con così senza Gelatinosa E quindi sicuramente Rimane molto più leggero Meno aggressivo Sulla pelle C'è scritto Che è anche illuminante Vi dico Non è una caratteristica Che ho notato O meglio Sicuramente va A illuminare Ma non è L'effetto primario Però sicuramente Lo trovo molto Molto più idratante Rispetto ad altri Infatti proprio per questo Mi è piaciuto E lo sto utilizzando Praticamente tutti i giorni E poi comunque C'è da tenere in considerazione Che ha un intergente Low cost Quindi per me Assolutamente promosso E ve lo consiglio Ultima categoria Per quanto riguarda Il mondo beauty Prodotto hair care E questo mese Vi faccio vedere Lui Che è questo prodottino Di Mulac Che mi è stato regalato Sempre a Natale Che ho testato Per questi due mesetti E questa qui È la mist berry Di Mulac Ho sentito parlare Per un sacco di tempo Di questo prodotto Finalmente a Natale Me l'hanno regalato E praticamente ragazzi Questo è una specie di Prai Barra essenza Barra un po' tutto Da spruzzare Quando avete fatto la piega Per andare a Illuminare Vigilare la piega E soprattutto Profumare i capelli Io lo volevo Principalmente per Quest'ultimo scopo Ovvero andare a Profumare i capelli Infatti ha questo Profumo buonissimo Che a me personalmente Sembra uguale Al profumo alien Di Mugler Ma magari è solo Una mia cosa Comunque ha un odore Veramente pazzesco E in questi mesi L'ho utilizzato Parecchie volte Vi dico Non sempre Ma semplicemente Perché avendo un capello crespo Molte volte preferisco Andare ad applicare Un prodotto Che non vada A farmi Increspare i capelli A farmi rigonfiare Quindi sia più Un protettore Dall'umidità Ma mi piace un sacco Perché va comunque A illuminare i capelli Li va a profumare Va a sigillare la piega Da proprio questa sensazione Di capelli leggeri E quindi anche se non lo utilizzo Sempre Quando faccio la piega Molte volte mi capita Di utilizzarlo E quindi insomma Ci tenevo a mostrarvelo E a consigliarvelo Prodotto d'abbigliamento Del mese Anche qui ragazzi Io non ho avuto Alcun dubbio Sul cosa mostrarvi Ed eccoci qua Il capo d'abbigliamento Che vi mostro È questa magliettina In realtà Molto semplice Nera Con lo scollo A barchetta Che ultimamente Sta andando un sacco E lei è di Pull&Bear Perché ve la sto facendo vedere? Perché per me ragazzi Questa qui è la maglietta Fatta con Questo design Tra virgolette Quindi con lo scollo A barchetta Migliore Che io abbia mai visto Provato e tutto Innanzitutto La cosa che mi ha fatto amarla È che la parte Che si rigira Insomma La parte della barchetta Non sale in continuazione Ha un materiale Soprattutto È abbastanza lunga In modo da sistemarla E farla rimanere lì Cosa non scontata Perché molte volte Questa tipologia di magliette Tende a salire E io ragazzi Non posso vivere così Cioè proprio io Non riesco a uscire E a stare scomoda Mentre lei Devo dire che sta abbastanza lì Non si muove Inoltre rimane Leggermente Trasparentina Quindi anche sotto Se mettete magari Una bralette O un bel reggiseno Sicuramente Fa un bel effetto Rimane leggermente Arricciata sui lati E poi secondo me È della lunghezza perfetta Perché non è Né troppo corta Né troppo lunga E quindi Mesta con un pantalone A vita bassa È top Infatti io la sto in do sono Praticamente sempre Anche perché È molto versatile Può essere Sia da sera Abbinata con un bel jeans Con un bello stivale Secondo me Fa la sua figura E costa tipo 12-13 euro Comunque la torta da Pulember E io ragazzi Ve la super mega consiglio Prossima categoria Un ghiette del mese E questo mese ragazzi Penso di farvi vedere Le unghie più particolari Che io abbia mai fatto Ma se mi seguite su Instagram O avete visto l'ultimo vlog Le avete già viste E sto parlando di loro Che come vedete Sono un bel po' particolari Perché Ho fatto questo French glassato Quindi trasparente Si chiama proprio Glass French E vi dico All'inizio Non ero convintissima Perché mi faceva Veramente molto strano Vedere questo French Trasparente Ma poi mi sono bastate Due ore per innamorarmene Completamente Vi giuro che Lo trovo particolare Ma allo stesso tempo Super elegante Super fine Anche la forma La lunghezza Mi piacciono tantissimo E queste bellissime unghie Sono state realizzate Da Victoria Vi lascio comunque Il suo nickname qui Che ha fatto veramente Un capolavoro Poi sono consapevole Che non siano piaciute A tutte Ma perché è comunque Un design molto particolare Soprattutto che Non si vede tanto in giro Quindi non si è nemmeno abituati Ma io le trovo Veramente stupende Quindi queste qui Sono le unghiette del mese Passiamo poi All'ultimissima categoria Che è l'acquisto del mese E questo mese ragazzi Vi mostro Lei Che è questa borsa Che vi ho già mostrato Nell'ultimo video Nel video haul Che è di Subdued Io l'ho comprata Principalmente perché Cercavo una borsa Per andare a studiare Quindi in modo che Ci stesse il computer I libri Insomma tutte queste cosine qui Ma non volevo La solita borsa Di tela O magari Troppo classica Cercavo qualcosa Di esteticamente bello 3-4 settimane fa In negozio è arrivata lei E io l'ho subito Comprata Perché mi piaceva tantissimo E sembrava Proprio ideale Per quello che stavo cercando Adesso non so se rende Ma vi garantisco ragazzi Che è bella bella grande E inoltre Secondo me Anche quando salgo su a Milano Vado da Coco E mi devo portare il computer Ma magari ho la valigia piena Cosa che succede sempre Per non schiacciare tutto in valigia Questa qui è comodissima E quindi nulla Sono mega contenta Di averla acquistata Inoltre mi piace tantissimo Che abbia tutti i dettagli In oro Che sono perfetti per me Bene ragazzi Io direi che per il video di oggi È tutto Spero come sempre Che vi sia piaciuto E vi abbia tenuto compagnia Se vi va Seguite i miei vari social Che vi lascio qui I vero Instagram, TikTok Vinted e Youtube E noi ci vediamo prossimamente Con un nuovo video Un bacio